Buonasera a tutti, quanta bella gente, Federico da quando si è sparsa la voce che tu sei stato definito dal Financial Times is the capo di tutti i capi of mafia studies, quindi il capo dei capi degli studiosi della mafia, non della mafia, cerchiamo di evitare equivoci, c'è appunto un grande interesse. Allora io sono Giancarlo De Cataldo, buonasera, è la seconda volta che ci vediamo oggi, lui è Federico Varese, ci ha appena raggiunto dalla prestigiosa università di, dove è la tua università inglese? Oxford, però Federico in realtà è italianissimo, è di Ferrara e ha fatto il giro del mondo della mafia. Allora io ho un tributo di riconoscenza nei confronti di Federico Varese che è uno di quegli studiosi che diciamo aprono delle strade. Per esempio io gli devo l'apertura di tutto il mio, tutto un filone di ricerca sul bitcoin, sul deep web, ricordo un incontro a Roma in cui lui ci parlava di queste, diciamo, di questa circolazione di impulsi criminali, anche di attività criminali attraverso la rete parallela, la rete occulta, eccetera, eravamo io e un altro amico e scrittore piuttosto scettici, ti ricordi? E lui diceva, ma guarda che effettivamente questa cosa esiste. Era in anticipo, era avanti. Credo che questo dipenda dalla sua forma mentis di studioso estremamente attento, non so se quanti lo sanno, ma insomma Federico ha elaborato una specie di decalogo di come un osservatore della realtà, nella fattispecie un osservatore della realtà criminale, debba comportarsi quando sta raccontando questa realtà, che è esattamente quello che fa Federico Varese in Vite di mafia. Allora, che cos'è questo libro? Non è un saggio sulla mafia. E' il racconto di alcuni aspetti della vita di organizzazioni criminali di tutto il mondo, dai russi agli italiani ai giapponesi, colti attraverso alcuni momenti nei quali Federico ha cercato di elaborare una specie di teoria generale dell'essere mafioso, dell'individuo mafioso, che viene quindi analizzato attraverso le sue attività di lavoro, la nascita, come si diventa mafiosi, come lavora un mafioso, come gestisce gli affari un mafioso, che cosa ne fa del denaro un mafioso, che cos'è l'amore per un mafioso, capitolo assolutamente straordinario di questo libro, che cos'è la rappresentazione che dà un mafioso di se stesso e della mafia, l'immagine di sé, quindi l'autorappresentazione della mafia, cos'è la politica per un mafioso, come muore un mafioso e come si alimenta post mortem il mito della mafia. Insomma, è una ricerca che ha dei profili estremamente originali per due motivi fondamentali, dal punto di vista culturale in generale è un po' per un criminologo quello che fece Cesare Lombroso negli ultimi anni dell'Ottocento, quando per la prima volta spostò l'attenzione dal reato, dal delitto, al delinquente, all'autore del reato. Cioè Lombroso andò in carcere, cominciò prima a studiare i graffiti, poi le lettere, poi i tatuaggi dei carcerati e infine lui e gli altri della scuola positiva andarono a conoscere questo universo sconosciuto del delinquente. Oggi è un universo invece estremamente conosciuto, molto raccontato, tante volte raccontato, drammatizzato, esaltato persino, mi ci metto anch'io, no? Il famoso ricorrente discorso ma come voi fate trasformate dei delinquenti in eroi, eccetera, eccetera. Ecco, ma fatalmente anche quando stai facendo un lavoro di stampo saggistico, e questo è il secondo aspetto dell'originalità di questa ricerca, se hai la capacità di narrare, ne viene fuori un grande libro narrativo. E questo è un grande saggio narrativo. Nel senso che lo può leggere anche chi non ha fatto degli studi particolari di ambito mafioso, di ambito di criminalità, perché racconta delle storie. Racconta delle storie vere e le racconta senza mai nascondere i momenti in cui l'autore entra nella storia, proietta la propria soggettività, per esempio, quando incontra un mafioso e quando il mafioso si apre con lui, gli racconta dei pezzi della sua vita e anche quando nel raccontare dei pezzi della sua vita sta mentendo. E questa è una cosa che Federico è perfettamente in grado di cogliere e di disseminare, di raccontare e disseminare in questo libro. La prima cosa che voglio chiederti, Federico, è se questa tua capacità narrativa che ricorre anche nei libri precedenti, io ricordo che ci conoscemmo ai tempi di Mafia in Movimento, che era un libro che lanciava alcune verità paradossali, cioè il modello mafioso si esporta, le mafie si muovono, però nello stesso tempo restano sempre mafie stabili, mafie estanziali, radicate ciascuna sul suo territorio. Io vorrei chiederti se questa tua innegabile, indiscutibile capacità narrativa, questa forza nel descrivere ritratti, nello sbozzare ritratti di criminali, ti deriva un po' dal fatto di essere uno studioso che sta a metà tra il pensiero italiano e quello anglosassone. Perché io, per quanto ne sappia, diciamo, un'operazione come questa fatta da un accademico italiano sarebbe immediatamente fucilata, soggetta alla critica, direbbe, ma non è un lavoro serio dal punto di vista storico. È vero questo? Sì, innanzitutto grazie di questa splendida introduzione e per essere venuti, sia a sentire me che Giancarlo. Ma quello che volevo fare in questo libro era cercare di capire cosa, quando un mafioso si guarda allo specchio, cosa vede. Cioè cercare di capire cosa il mafioso vede di se stesso, cosa crede di essere, di capire la sua personalità, nelle sue anche piccolezze, meschinità, semplicità e anche nella sua crudeltà. E quindi il tentativo di ricostruire le persone che stanno dietro i grandi crimini. E spesso, anche giustamente, noi identifichiamo la mafia come un oggetto unitario da combattere. Però spesso non andiamo poi a vedere chi ci sta dietro questi grandi nomi, le persone che vivono costantemente nel contesto i mafiosi. Chi sono? Come nascono? E la motivazione di questo libro nasce da un incontro che io feci tanti anni fa quando avevo deciso di fare la mia tesi dottorato. Poi arriva la domanda, questa è una lunga prefazione. Negli anni 90 ero appunto un giovane laureato, come penso ci siano molti qua, ed ero assolutamente affascinato da una trasformazione sociale che avveniva in quegli anni in Unione Sovietica e in quella che era poi che diventerà la Russia post-sovietica. Ed era un momento per me straordinario perché volevo assolutamente vedere come questa società si sarebbe cambiata con la fine dell'economia pianificata, l'arrivo della democrazia, l'arrivo dell'economia di mercato, cioè l'arrivo del capitalismo. In qualche modo ho pensato questo è l'unico momento nella mia vita in cui posso osservare questa grande trasformazione. Quindi vado in Russia, negli anni 90, vivo lì per un anno, poi sono tornato regolarmente, in questo incontro appunto durante il lavoro sul campo con questo boss della mafia di Perm, che era la città dove facevo lavoro sul campo, ed è un incontro che non ho mai raccontato prima, che non ho raccontato neanche nella mia tesi di dottorato, che per fortuna passò e diventò una tesi accademica che poi produsse un libro che si chiama La mafia russa. Ecco, questa era la motivazione originale per scrivere questo libro, raccontare cose che non avevo mai raccontato nel corso della mia carriera accademica, e raccontare, vengo alla tua domanda, in maniera il più possibile narrativa. E quindi mettere me stesso all'interno di queste storie e far capire come uno studioso come me arriva a incontrare queste persone. Io penso che se uno studia la mafia non possa studiarla stando a tavolino. C'è un grande scrittore inglese che dice che i crimini intellettuali peggiori sono commessi da coloro che stanno sempre seduti in una scrivania. Cioè, chi fa lavoro di questo tipo certo deve usare i dati, però deve anche viaggiare e deve andare a conoscere queste persone. E quindi, in un qualche modo, la dimensione narrativa del viaggio è inevitabile. E, come dici tu, e vengo alla tua domanda dopo questa breve introduzione, certamente vi è una tradizione anglosassone di narrativa che non c'è nell'Accademia Italiana. E quindi, forse hai ragione, è più facile fare questo tipo di libri stando fuori. Proprio l'altro giorno stavamo commemorando l'opera di un giovane scrittore italiano che si chiama Leo Grande, che scriveva anche lui libri di questo tipo, cioè narrativi sulle migrazioni. E io stesso dicevo che uno scrittore di questo tipo non avrebbe mai avuto un posto all'università in Italia. Cioè, la cosa che un po' dispiace del sistema accademico universitario italiano è che non ti dà spazio per fare opere di questo tipo, che rimangono comunque scientifiche, nel senso che il mio libro è basato assolutamente su dati e su tutto verificabile. Però c'è un elemento narrativo che spero renda anche più leggibile. Siamo in un festival di giornalismo, Roberto. Io, sì, Roberto, vedi. Il diavolo, c'è lo zaino. Lapsus. Lapsus è indicativo. Perché la domanda che volevo farti, diciamo, lambisce questo grande filone narrativo che è diventato popolare proprio con Gomorra di Roberto Saviano. cioè, un racconto del fatto in cui a un certo punto fa irruzione la soggettività dell'autore. Allora, tu, cosa ci hai messo? Hai detto il viaggio, hai detto l'incontro, ma come hai gestito questo rapporto del tuo libro? Io lo so, ma insomma, vorrei che lo spiegassi a chi non l'ha ancora letto. Sì, per esempio, questo incontro... Gomorra, appunto, ha quel grande merito di avere la soggettività dello scrittore. Nel mio caso c'è la mia soggettività, cioè c'è il mio viaggiare e vedere luoghi e poi però c'è anche il raccontare l'altro da me. Cioè, io non è che racconto me stesso e basta in questo libro, voglio raccontare le persone che incontro. Quindi, secondo me, è uno dei criteri fondamentali per scrivere libri di questo tipo. Cioè, appunto, a cavallo tra il giornalismo e il saggio è proprio quello di dire chi sei tu, da dove vieni e come ti corochi all'interno del mondo, se sei bianco, nero, uomo, donna, eccetera. Puoi però avere la curiosità per il mondo esterno, quindi non raccontare solo te stesso e la tua vita personale e ovviamente non mentire, raccontare in maniera precisa quello che incontri e anche non trovare un'equivalenza tra le persone che incontri. Cioè, è ovvio che io, chi fa questo tipo di lavoro, incontra sia delle vittime che dei carnefici e non è che puoi avere un'equisistanza totale tra vittime e carnefice. C'è una bellissima canzone, mi sembra, degli operai americani che dice da che parte stai, Which side are you on? Cioè, è ovvio che chi si occupa di mafia o di criminalità o di migranti lo fa perché ha un senso civico, ha un senso di battaglia civile per raccontare delle tragedie, quindi non è che ci può essere l'equivalenza, però non di meno devi anche avere il rispetto delle persone che incontri. Quindi, un modo in cui io ho gestito gli incontri con questi criminali, questi mafiosi russi soprattutto, era di, ad esempio, non mentire mai a loro, cioè dire sempre chi ero, cosa facevo, dire che avrei poi scritto una cosa pubblica, concordare degli accordi, per esempio, mi è stato sempre chiesto di non pubblicare mai i miei libri in russo, non pagare mai, non dare mai soldi a nessuno e in un qualche modo essere attenti e ascoltare quello che avevano da dire, genuinamente interessato. Si può raccontare, perché questo è un tema molto caldo, non si può raccontare per conoscere o raccontare per acquisire informazioni e ricostruire la storia, in qualunque segmento della storia, quando c'è un rapporto tra vittime e carnefici, evitando di dare la parola ai carnefici, è possibile farlo? È possibile un racconto che, diciamo, faccia calare ad amnazio memorie nei confronti di chi ha fatto il male, come scelta proprio politica, ideologica, e anche di conoscenza? Sì, secondo me, ovviamente la domanda è molto compressa e non credo di poter rispondere io in maniera definitiva a questa domanda, che ovviamente è una domanda che poi implica poi narrare l'olocausto, cioè ci sono tante altre cose. Secondo me è possibile, perché solo con la conoscenza, solamente conoscendo le persone che hanno fatto del male, puoi combatterle. se tu non le narri nella loro umanità, quindi umanità e anche meschinità e semplicità, poi ne costruisci un'immagine falsata e quindi la vera battaglia contro il male parte dalla conoscenza di chi fa il male, di come l'ha fatto e poi anche di come ci è arrivato. Io poi sono un sociologo di formazione, quindi penso che vi sono sia delle scelte personali ma anche delle situazioni strutturali che producono, ad esempio, l'emergere delle mafie e quindi bisogna, secondo me, narrare per conoscere e solo dopo che si è conosciuto si può combattere. C'è un'altra frase che mi piace molto che dice l'importanza del capire viene prima del credere, del combattere. Prima bisogna capire e poi si può combattere. Bisogna dare la parola a queste persone per capire cosa loro pensano di se stesse e per poi analizzare criticamente. Nel caso specifico dei mafiosi, tanto per fare un esempio, questo è un mafioso che ho conosciuto abbastanza bene di cui poi vi parlerò dopo se vi interessa, lui non si considerava un criminale, ad esempio, si considerava una persona che nel contesto della frammentazione dell'Unione Sovietica in cui non vi era più uno Stato in cui i diritti di proprietà erano completamente non li potevi gestire perché lo Stato non c'era per difendere i diritti di proprietà, lui si considerava una persona che governava la comunità ed era anche molto religioso e quindi capire che loro si pongono non come dei criminali semplici ma come dei produttori di un ordine sociale è quello importante perché poi capisci perché in questo contesto paradossale possono avere un discreto successo perché c'è un disordine totale. Giuseppe Guido lo Schiavo che fu procuratore generale della Cassazione che ispirò alcuni dei suoi libri un famoso film di Pietro Germi negli anni 50 tesse l'elogio di Don Calovizzini come uomo d'ordine e Don Calovizzini era stato il sindaco imposto dagli americani in questo piccolo comune di Villalba all'indomani della liberazione della Sicilia ed era esponente della mafia era chiaramente un esponente di quella che allora si chiamava alta mafia quindi insomma sì un ordine però basato sulla violenza e sulla mancanza dei diritti sulla mancanza della legge come alterità alla norma come alterità al diritto certo esatto però quello che volevo chiedere quando tu conosci raccontaci come l'hai incontrato raccontaci la storia di questo tuo mentore russo nella mafia quindi negli anni 92 93 vado in questa cittadina che si chiama Perm che è una grande città ai confini tra la Siberia e la Russia europea e la mia tesi di dottorato è studiare la transizione al mercato e quindi intervisto molti imprenditori e la cosa che a quel punto emerge in maniera palese che ovviamente io non mi aspettavo in maniera così forte quando ero partito è che gli imprenditori pagano il pizzo pagano il pizzo esattamente come lo pagavano in Sicilia negli stessi anni e prima a un certo punto un imprenditore mi dice mi presenta un politico e vado all'ufficio del comune in consiglio comunale e questo politico mi dice ah se tu vuoi sapere qualcosa di come funziona la mafia qui devi assolutamente parlare con questa persona che io sapevo essere appunto il mafioso locale e dopo una serie di intermediari alla fine sono riuscito ad avere un'audizione con questa persona dove ti ha ricevuto nel ristorante in un ristorante dove lui teneva corte e lui stava in fondo alla sala e io sono entrato in questo ristorante mi hanno controllato che non avessi armi e queste cose e alla fine mi sono potuto sedere di fianco a lui per una mezz'ora e non è che gli ho chiesto ma chi hai ammazzato o chi sono i crimini che hai appena commesso gli ho chiesto proprio la cosa che dicevo prima cioè tu chi sei e cosa pensi di fare cosa pensi che sia il tuo ruolo nella comunità e nel raccontarmi queste cose mi ha detto io credo che nel mondo russo di oggi ci sono solamente due istituzioni che tengono in piedi la società una è la chiesa e l'altra è questa società segreta di criminali di cui io sono membro che si chiamano i vorivzakoni i ladri in legge si chiamano nella traduzione un po' grezza in italiano che sono una società segreta nata negli anni del gulag con tatuaggi soprannomi riti di iniziazione che sono presenti in tutto il sistema carcerario sovietico e poi una volta che finisce l'unione sovietica escono dalle prigioni e diventano l'essenza della mafia russa di oggi che dagli anni 90 ad oggi ha avuto delle trasformazioni ma è comunque presente e la cosa affascinante è che tu puoi essere membro di questa società di questo club in una certa città però hai addentellati c'è un network in tutto lo spazio sovietico e ovviamente oggi anche in Spagna in Italia in Grecia come racconto nel libro e in Germania e quindi hai una certa indipendenza al tuo interno però è un coordinamento e una condivisione delle regole principali dell'organizzazione esattamente come la mafia siciliana è una struttura federale simile a quella dei casalesi per intenderci è una struttura verticistica simile a quella siciliana o una struttura verticistica e familistica come quella dell'Andrangheta no è una struttura federale federale quindi esistono in tutte le cittadine in varie città dei gruppi criminali al cui abito c'è un membro dell'associazione e quindi lui è il boss della famiglia locale e poi questi boss si incontrano e fanno incontri in giro per il mondo nel libro racconto i tentativi di incontri fatti in Calabria a Roma questa è della mafia russa mondiale e poi a Dubai appunto e quando si incontrano discutono le cose di comune interesse e quindi un po' come le Nazioni Unite insomma cioè si incontrano a volte questi incontri infatti finiscono male poi perché poi si uccidono tra di loro però la cosa affascinante è che li rende veramente diversi dalla criminalità semplice è che nonostante siano imposti diversissimi tra di loro nel mondo nonostante anche si facciano la guerra come fanno le mafie riconoscono i principi fondamentali dell'organizzazione le regole fondamentali dell'organizzazione i riti e usano il corpo come il testo sul cui tu scrivi la tua storia criminale e quando diventi boss cioè vor nel caso tecnico ti viene tatuata una stella che è la stella che dimostra che tu sei finalmente hai raggiunto l'apice dell'organizzazione se ovviamente ti fai quel tatuaggio senza averne diritto vieni punito sì in un vecchio testo della fine dell'ottocento che si chiama il romanzo di un delinquente nato Bianchi che fu un discepolo contemporaneo ma insomma discepolo di Lombroso raccontava questo percorso della cresciuta della crescita criminale parlando appunto di un delinquente di un delinquente calabrese raccogliendo anche canzoni racconti tatuaggi storie eccetera e possiamo dire che il modello diciamo i mafiosi internazionali che tu hai incontrato sono diciamo delle derivazioni di un modello originario nostro autoctono italiano o non lo dico come quando ero ragazzino leggevo la gazzetta del mezzogiorno di Bari o sono pugliese e con dei titoli che lasciavano trapelare una sorta di orgoglio diciamo barese l'assassino delle mondane no cioè lo dico per dire con chiave lo dico preoccupato abbiamo realmente esportato un modello mafioso beh il tentativo che faccio in questo libro è dimostrare che tutte le mafie classiche cioè dalla mafia siciliana alla mafia russa alla mafia giapponesa la yakuza le triadi di Hong Kong la mafia italo-americana hanno tutte un modello organizzativo simile quindi non è tanto credo che i siciliani l'hanno necessariamente imposto ai russi o ai giapponesi anche perché emergono spesso contemporaneamente la mafia siciliana emerge esattamente quando emerge la mafia giapponese nell'ottocento vi è però una struttura assolutamente condivisa e quindi hanno riti di iniziazione hanno questa idea della rinascita il primo capitolo di questo libro si chiama nascita e nascita non perché nascono ma perché quando entri nell'organizzazione diventi finalmente un uomo un essere umano sei battezzato sei battezzato battesimo è una parola che ricorre in molte di queste in queste mafia in una addirittura il rito lo fai nudo quasi nudo proprio perché devi toglierti i vecchi panni quindi queste strutture sono molto forti e la struttura organizzativa è come dicevamo prima la famiglia base i boss che si coordinano tra di loro e i principi fondamentali dell'organizzazione che sono condivisi e quando viene iniziato un nuovo boss o un nuovo membro tutta l'organizzazione ne è informata e la cosa affascinante di queste organizzazioni che vengono spesso definite semplicemente come un business è che le regole i criteri dell'organizzazione hanno un potere normativo cioè se tu infrangi queste regole hai fatto un errore hai infranto una norma poi certo le infrangono però devi giustificare di fronte a un tribunale il fatto che tu infrangi questa norma nel libro racconto la storia di uno di questi boss russi che viene appunto che infrange queste norma e che poi alla fine viene ucciso ma l'omicidio di questo boss è frutto di un processo e quindi sono forme parallele di governo sia interno che esterno della società che sono segrete non apparenti l'enorme l'enorme liquidità della quale dispongono le organizzazioni criminali quanto influisce secondo te nel gioco economico e nelle nostre democrazie io so che tu hai studiato anche questo fenomeno sì infatti nel libro anche c'è un capitolo che si chiama denaro e quindi la tesi del libro è che queste mafie fanno il loro mestiere di mafia cioè nel caso dell'Andrangheta controllano il porto di Gioia Tauro che arriva tutta la cocaina dall'America Latina il loro lavoro è controllare il territorio gli appalti eccetera eccetera però poi guadagnano moltissimi soldi in questo modo io ho studiato abbastanza i flussi della mafia russa in occidente e infatti il capitolo sul denaro è stato quello più complicato dal punto di vista legale perché gli avvocati della casa editrice erano terrorizzati che le banche poi mi denunciassero e quindi quello che fanno queste nel caso della mafia russa quindi rimane che il sistema bancario è il canale fondamentale di trasfusione del denaro dal mondo illegale al mondo legale nel caso russo le banche russe anche banche italiane in Russia prendono questi denari e poi li mettono nel sistema finanziario internazionale in questo modo ripurendoli qualche anno fa io ho lessi una raccomandazione di organismi di vigilanza bancaria a proposito del fenomeno dello shadow banking shadow banking non è un fenomeno illegale nel senso che si può organizzare la raccolta di denaro nei termini regolamentati di un'attività bancaria o con una società quotata in borsa ovvio dicendo oppure dei privati o dei gruppi possono federarsi e movimentare denaro senza violare nessuna legge ovviamente però lo shadow banking cioè l'ombra sfugge a quel sistema di controlli il testo che io ho lessi quantificava intorno al 30% del denaro circolante la quantità diciamo riconducibile allo shadow banking solo una parte di questo era denaro criminale non si poteva assolutamente affermare che l'intero fenomeno dello shadow banking fosse eccetera ma il testo che io ho lessi nel raccomandare i controlli raccomandava che questi controlli non fossero così asfissianti da deprimere la funzione importante che ai fini dell'economia in un momento di crisi di liquidità poteva avere il fenomeno dello shadow banking voglio dire c'è ipocrisia c'è una grande ipocrisia dietro i discorsi su denaro e mafia sostanzialmente i controlli non ci sono cioè l'idea che esiste un'architettura per prevenire il riciclaggio del denaro è una una fantasia in realtà il denaro viene riciclato attraverso le banche e tutto il sistema di controllo del riciclaggio che c'è per esempio nel paese dove vivo io è volontario cioè la banca che decide se raccontare o meno la presenza di questi soldi in una cosa che racconto nel libro le banche in questo caso italiane inglesi che stavano a Mosca spiegavano ai personaggi che studiavo io come immettere il denaro in modo che poi non venisse notato nel trasferimento e quindi fare delle piccole somme la banca in questione era una banca cosiddetta privata quindi si chiama private banking che sono banche che non sono le banche normali che si trovano sulla high street sono le banche per i grandi investimenti i grandi ricchi che hanno una grossa privacy e quindi tutto il denaro di questo gruppo in particolare di mafia russa che studiavo io passava attraverso una banca una private bank londinese che poi trasferiva il denaro a New York a Roma e tra l'altro una volta presentato il libro proprio di fianco alla sede di questa banca lo shadow banking è un fenomeno un po' diverso perché non è il sistema bancario classico è il sistema bancario informale e si chiama anche Hawala nel caso del mondo islamico ed è un sistema anche quello molto affascinante perché è basato interamente sulla fiducia è interamente al di fuori del sistema formale c'è una persona in un posto a cui tu dai del denaro e magicamente dopo due o tre ore questo denaro compare in un altro luogo ad esempio è molto utile in paesi dove il sistema bancario non esiste come la Somalia o è molto importante in Afghanistan questo tipo di Hawala però ovviamente permette anche al denaro frutto del traffico di droga di passare ci fu un'indagine molto bella a Carpi in cui c'era uno di questi Hawalader che era un banchier Hawala che gestiva denaro di trafficanti albanesi in quel caso e poi ci fu un'indagine che lo scoprì e la cosa bellissima questo era un barbiere tra l'altro un barbiere di Carpi e quando ha intercettato gli dicono gli dicono ah ma vieni a prendere il denaro a Milano vieni a prendere il denaro in Turchia lui dice no io non mi sposto io ho il mio luogo la mia ufficio voi mi trovate sempre qua la mia reputazione si basa sul fatto che mi trovate sempre qua e avete la certezza che io sono sempre qui quindi come le banche ufficiali anche queste banche informali costruiscono la reputazione per avere un'onestà nel sistema di trasferimento questo però è anche un libro di storie storie di uomini e di donne vicende umane persino storie d'amore tu racconti una bellissima storia d'amore a un certo punto se ce la vuoi accennare sì c'è una storia di nel libro c'è un capitolo che si chiama amore in cui cerco di innanzitutto capire come mai una cosa che voi che sappiamo è che le mafie non ammettono le donne se noi identifichiamo la mafia come coloro che sono andati attraverso il rito che hanno fatto il rito mafioso in questo caso le donne non sono escluse ed è una per gli studiosi una cosa interessante perché tutto sommato queste organizzazioni criminali si sono evolute in molti modi usano la tecnologia hanno cambiato le regole di ammissione eppure mantengono questa norma che esclude formalmente le donne dall'ammissione nell'organizzazione eppure hanno un ruolo molto importante le donne sempre maggiore informale non di meno sono escluse la mia tesi è che il potere del sentimento quindi anche il potere dell'amore che può avere una madre nei confronti del figlio che magari sarebbe parte dell'organizzazione renderebbe molta turbolenza all'interno dell'organizzazione quindi le donne sono paradossalmente un fattore che crea problemi all'organizzazione quindi la rende molto più debole nel libro racconto la storia di due di un boss della mafia siciliana che si chiama Nicola che è innamorato della sua moglie della sua fidanzata e appunto proprio per questa regola che vi dicevo prima che le donne non possono partecipare al rito lui però è talmente innamorato e per lui essere diventato mafioso era la cosa più importante che era la sua vita e quindi vuole condividere con lei questa esperienza di passare attraverso il rito e in casa nel loro appartamento rifanno loro due il rito e quindi c'è tutta la trascrizione che viene intercettato e nel libro racconto come appunto lei può essere ammessa a questo circolo di mafiosi pur essendo una donna e poi a sua volta verrà coinvolta nel traffico di droga in cui è coinvolto anche lui senti nel giuramento in una delle fibbie ritrovate nel 1960 in Calabria con il testo del giuramento dell'Andrangheta con la punciuta il santino San Michele Arcangelo Osso Mastrosso e Carcagnosso le formule eccetera a un certo punto tra le componenti che fanno l'appartenenza insieme all'onore il coltello il rasoio c'è la falsa politica una delle forze dell'affiliato è la falsa politica tu ne parli in questo capitolo dedicato alla politica nel senso che falsa politica per quello che ne sappiamo per quello che abbiamo studiato abbiamo visto dei processi in questi anni è sì io posso essere coinvolto in un'attività politica ma non sarò mai un politico sarò sempre prima di tutto un mafioso confermi anche per altre mafie sì 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 la mafia usa la politica la mafia ha assolutamente bisogno della politica ha bisogno della politica perché vuole svuotare la politica del significato profondo della politica che è rappresentare gli interessi dei cittadini e anche la volontà di trasformazione dei cittadini e lei deve impedire che questa politica sia genuina e quindi si pone come una politica diversa con i propri uomini però il mafioso non è mai un politico anche perché il politico fa sempre promesse che il mafioso non vuole fare che non potrebbe mantenere nel capitolo su politica ho fatto un'esperienza che mi ha molto toccato perché quasi giornalistica credo perché non so se vi ricordate nel 2014 i giovani di Hong Kong protestarono contro la legge cinese che impediva le elezioni del presidente di Hong Kong e quindi ci fu questo movimento straordinario di giovani di ragazzi dalle scuole medie superiori e del primi anni di università che occuparono il centro di Hong Kong una grandissima metropoli finanziaria eccetera con l'esercito cinese alle porte che poteva invadere ovviamente e mandarli via e quindi hanno fatto questa grandissima dimostrazione di impegno sociale e civile hanno costruito un campo in tre parti di Hong Kong dove potevi andare a dormire io ho dormito in una tenda che avevano organizzato e c'erano dei workshop delle elezioni ecco a un certo punto durante questa questa esperienza di democrazia di lotta per la democrazia la mafia locale le triedi di Hong Kong hanno attaccato il campo e i giovani hanno resistito a questo attacco violento della mafia locale con le armi della non violenza cioè si sono messi con i loro corpi a difendere il perimetro e dopo ore di attacchi da parte di questa di questi gruppi di criminari sono dovuti andare via i criminali e quindi hanno vinto diciamo rischiando molto e poi ci sono foto drammatiche insomma e quindi volevo assolutamente capire questo fenomeno e il rapporto appunto tra democrazia movimenti sociali e mafia e come la mafia interviene per impedirli e quindi sono stato a Hong Kong diversi settimane e con una mia studentessa che è di Hong Kong abbiamo fatto interviste sul campo abbiamo intervistato i mafiosi locali tutti gli studenti che potevamo intervistare i leader ovviamente del movimento studentesco e anche altri poliziotti e professori e praticamente questi mafiosi hanno operato al sordo della cattiva politica per distruggere questo movimento che aveva messo in crisi gli equilibri locali soprattutto imprenditoriali è stata un'esperienza molto toccante e nel libro racconto poi soprattutto di una ragazza che era la leader del movimento studentesco che racconta come è rimasta scioccata quando è stata appunto malmenata aggredita durante l'attacco però appunto con le armi della non violenza ha resistito fino a quando questi sono dovuti andare via l'ho trovato straordinario da quando la parola mafia è entrata nel dizionario italiano inizialmente con due F mafia cioè praticamente dall'unità d'Italia prima si parlava di mantengoli con venticole e via dicendo non c'è stato governo che non abbia accusato il governo precedente di essersi appoggiato nelle regioni meridionali a gruppi mafiosi promettendo di fare pulizia era diciamo all'ordine del giorno di tutti i dibattiti nel passaggio dalla destra storica alla sinistra storica alle varie correnti della destra storica ci sono delle pagine molto significative nella storia del nella storia del Parlamento italiano e ciò non toglie che però se tutte ti faccio una domanda un po' provocatoria se tutto quello che abbiamo detto ci siamo sempre detti delle mafie con l'allarme che abbiamo lanciato con i ripetuti tentativi di bloccarne l'influenza sul piano militare territoriale economico eccetera diciamo noi non possiamo dire che le mafie hanno vinto e il mondo è mafioso commetteremo un grave errore sia metodologico che culturale che storico nel dirlo no no assolutamente assolutamente credo ad esempio che la mafia siciliana sia in grossa difficoltà in questo periodo credo che sicuramente ci sono la mafia anche italo-americana in grossa difficoltà e credo che non si possa leggere tutta la storia d'Italia attraverso il prisma mafioso il problema della sconfitta diciamo in questo periodo della mafia siciliana nel libro racconto come il boss che segue che si chiama Rotolo è costretto a casa non può uscire quindi è molto sotto pressione e quindi non può usare il suo potere sulla strada ecco però queste vittorie sono sempre vittorie superficiali perché comunque arresto i mafiosi sicuramente l'elemento della polizia dell'arresto di polizia è fondamentale ma le mafie non sono solo un fenomeno criminale sono chiaramente un fenomeno sociale che sono prodotto di determinate condizioni strutturali dei contesti dove esse emergono se quindi noi non aggrediamo queste condizioni sociali che sono alla base dell'emergere delle mafie l'approccio di tipo di repressione che è fondamentale non basterà mai perché comunque per quanto in difficoltà la mafia siciliana esiste ancora e come esiste l'andrangheta che sono più antiche della storia d'Italia quindi nel libro poi ho una lista delle cose che farei io se fossi king of the world diciamole qualcuna a titolo proprio indicativo Federico sicuramente una cosa che queste mafie fanno è sostituire lo Stato nella gestione dei rapporti sociali in Italia una causa civile ci mette otto anni in media a essere risolta nel libro racconto come il mafioso locale riesce in due mesi in un mese e mezzo a risolvere una disputa tra due persone che hanno un problema di accesso ad un garage queste cose qua sembrano cose piccole ma la cosa per me straordinariamente pericolosa è quando un criminale diventa un elemento di autorità per risolvere le dispute sociali quindi uno Stato che funziona che riprende controllo del territorio che non privatizza tutto perché l'altra quindi questa è la prima cosa lo Stato deve avere una macchina giudiziaria efficiente delle dispute sociali l'altra cosa che fa la mafia è entrare nell'economia perché la funzione fondamentale delle mafie nell'economia è governare i mercati i mercati locali per cui se tu vuoi aprire un negozio in quella strada questo avveniva in Russia quando ero io lì avviene oggi in molte parti d'Italia devi avere il permesso del mafioso e pagare il pizzo ecco se lo Stato non riprende il controllo dell'economia e governa i processi economici le mafie continueranno ad avere una funzione perché chi all'appoggio della mafia beneficia della sua presenza quello che fanno le mafie è costruire accordi di cartello tra imprenditori per ridurre la competizione e aumentare i prezzi e fregare i consumatori ovviamente e quindi punire anche chi non accetta questi accordi se lo Stato non interviene nell'economia e la governa in maniera efficace la mafia subentrerà quindi l'idea che io privatizzo e che i mercati si autoregolano e finisco è veramente errata perché i mercati non si autoregolano se lo Stato si ritira e lascia agli elementi del mercato l'autoregolamentazione poi entrerà violenza in quell'autoregolamentazione e sarà peggio e quindi il capitalismo se lo facciamo bisogna farlo bene cioè tu mi stai dicendo che sostanzialmente il neoliberismo potrebbe essere una sorta di alleato della mafia ove condotto agli estremi esatto esatto detto come sì esattamente quello cioè la privatizzazione delle funzioni fondamentali dello Stato non produce un'autoregolamentazione virtuosa dei rapporti sociali produce in molti casi una regolamentazione non virtuosa e violenta dei rapporti sociali questo è quello che fa la mafia perché noi diciamo di solito che si privatizza per diventare redditivi no cioè per guadagnare dei soldi cioè possiamo tenere una scuola soltanto a perdere bisogna che ci siano l'autonomia insomma che ci si autosostenga non si può spendere non ci possono essere aiuti di Stato diciamo questo sono quanti anni che sentiamo dire queste cose eh no no ma io te lo dico provocatorio è ovvio che lo dico lo dico provocatoriamente no secondo me appunto è una linea argomentativa pericolosa perché invece proprio le scuole le biblioteche la presenza dello Stato nei territori è fondamentale per trasmettere una cultura della legalità della civiltà però la cosa più grave o meglio altrettanto grave è la privatizzazione delle funzioni fondamentali dello Stato che sono il governo dell'economia e dei territori quando in Sicilia la raccolta delle tasse viene affidata a un'agenzia privata che guarda caso in odore di mafia e lo Stato rinuncia a fare il suo mestiere quindi quello che deve fare quindi io non penso a uno Stato elefantiaco necessariamente che fa tutto ma che cose fondamentali che deve fare le deve fare bene e ci vuole più Stato quindi per avere la cosa che ho imparato in Russia negli anni 90 è che privatizzare basta è un errore clamoroso perché più produci un'economia di mercato capitalista più hai bisogno di uno Stato forte forte e autorevole e indipendente dagli interessi economici che ci sono nell'economia e quindi se io penso quello fondamentalmente un altro piccolo aneddoto da Hong Kong c'è la a Hong Kong c'è la completa privatizzazione del trasporto pubblico per cui ci sono questi piccoli minivan che sono abbastanza a buon mercato e che sono completamente privatizzati però cosa fanno questi minivan devono competere tra di loro per avere i posti dove parcheggiare sulla strada e quindi come fanno a competere non è che semenan tra di loro questi qua hanno il mafioso che decide chi si ferma dove allora quella è una funzione fondamentale dello Stato che dovrebbe fare la città di Hong Kong e invece lo fa la mafia tu poi capisci che quello che c'ha l'appoggio del mafioso che gli dice tu ti puoi fermare vicino a questa zona molto prestigiosa di Hong Kong ha un vantaggio ha un vantaggio fondamentale e beneficio della sua presenza sì mi fa venire in mente un delizioso romanzo di Diego De Silva di qualche anno fa in cui lui a un certo punto scrive una lettera insomma manifesto per una camorra sostenibile cioè dice ai camorristi vabbè voglio passatevi una mano sulla coscienza vedete che possiamo fare perché insomma cerchiamo di trovare un senso amaro e ironico il nostro tempo il tempo di questa discussione volge al termine io vorrei che tu mi dicessi però qualcosa sull'immagine di sé del mafioso e in specifico su quanto l'immagine di sé e l'immagine che noi diamo che noi che raccontiamo diciamo la mafia al di fuori della conoscenza diretta quando la drammatizziamo quando facciamo gomorra quando facciamo romanzo criminale quando facciamo subun interesse anch'io rompo la quarta parete entro nella soggettività quanto viene percepita da loro e quanto ci ritorna sotto forma di metabolizzazione da parte loro sì grazie io sono ovviamente molto emozionato di essere qui di fronte a questo grande pubblico e con te che hai fatto appunto questi libri che ho trovato veramente affascinanti di cui io parlo un po' anche nel mio lavoro credo che una delle ragioni per cui il mafioso russo volesse parlarmi negli anni 90 è perché era curioso di proiettare all'esterno la sua immagine a me quindi era sicuramente una forma di rappresentazione che tra l'altro quella rappresentazione che fece in quel ristorante era probabilmente rintracciabile in alcune penso che la piovra era in quel momento vista in televisione e quindi era molto molto amato come modello di comportamento e vengo al punto della tua domanda come i mafiosi rappresentano se stessi il mafioso non fa lui il film e non scrive lui i romanzi che scrivi tu o i saggi che faccio io lui li vede in televisione quindi il libro il film più amato dalla mafia italo-americana ma non solo anche dalla mafia russa era il padrino ma il padrino è una rappresentazione falsata falsa finta della mafia italo-americana non esiste nessuna famiglia italo-americana della mafia italo-americana l'idea che il padre passa lo scetto al figlio non è mai esistito e non sono famiglie di sangue queste della mafia italo-americana quindi ovviamente non è vero tutto il resto anche ecco però il mafioso lui sa che quella rappresentazione è falsa perché se lo sa bene lui perché lui è la mafia vera però non può andare in giro a dire io sono la mafia vera e per convincere il pubblico che lui è la vera mafia copia la mafia televisiva o cinematografica in questa sorta di circo ermeneutico in cui il vero mafioso copia il finto mafioso per far capire a noi veramente che lui è il vero mafioso tanto che questi hanno imparato a memoria le frasi e la sceneggiatura del padrino si incontravano a vederlo e ci sono appunto dei racconti molto interessanti e il padrino poi ha avuto una sua successo molto altifuori della vicenda italo-americana anche in Russia ad esempio c'era un boss che si atteggiava a Brando e al Pacino ecco quindi questo è molto potente per il mafioso e nel libro racconto anche di mafiosi che addirittura hanno prodotto dei film su se stessi nel caso di Hong Kong e della mafia e della mafia russa e della mafia giapponese il consiglio modesto che io do a questi mafiosi è che è meglio che facciano fare i film agli altri e poi li copiano perché nel caso giapponese quando si mettono a produrli direttamente in genere producono dei brutti film e dei brutti romanzi ha introdotto una nota di leggerezza ma non è che se smettiamo di fare dei film sulla mafia poi la mafia smette di essere mafia magari fosse così io sarei pronto a buttare a male tutti i romanzi criminali e le suburre se potessimo ottenere in cambio l'estinzione delle mafie dubito che funzioni così però no certamente no certamente esatti come dicevo prima il mafioso esiste prima della rappresentazione esiste prima la rappresentazione e tra l'altro esiste sin dall'ottocento la rappresentazione della mafia Beati Paoli ovviamente quindi non è ovviamente la libertà di creativa è fondamentale quello che la rappresentazione fa per il mafioso è di coordinare le famiglie su un modello di comportamento perché tu immagini in Sicilia c'erano non so 30-40 famiglie nell'ottocento quale modello di rito scegliamo e quindi la rappresentazione del foglietono del romanzo ti permette di coordinarti su un certo modo di comportarti di vestirti in un certo modo di avere un certo modo di comportamento un codice un dress code un dress code che è convenzionale perché non è che quel dress code ha un significato profondo è semplicemente quello che ti permette di distinguere loro dagli altri una cosa che facevano i mafiosi in Sicilia che non faceva nessun altro nel contesto locale era di baciarsi quando si incontravano si baciavano e c'è Calderone che dice quando vedevo questi uomini che si baciavano ero molto scioccato perché nel nostro contesto non si fa poi ha capito che era invece fatto da e poi ovviamente la mafia la mafia muore cioè la mafia è reale e non solo fiction e magari finisco questa mia breve risposta dicendovi cosa poi è successo a quel boss russo che ho conosciuto negli anni 90 dopo quell'incontro dopo quell'incontro no quindi quell'incontro per me è stato molto importante e mi ha permesso di capire come funzionava la mafia russa che volevo studiare di cui ho scritto un libro e dopo un anno circa ritorno nella mia università cioè a Oxford a finire il mio dottorato e ricevo la telefonata di un poliziotto che mi ha detto al telefono dice guarda sono fuori dal ristorante dove tu sei stato in passato e hanno appena sparato a Zikov cioè al boss che tu avevi conosciuto e nel suo appartamento abbiamo trovato del materiale e anche delle foto in cui ci sei tu e lui ritratti ovviamente questo non l'ho scritto nella tesi dottorato perché non volevo rischiare che poi non mi facessero passare e quindi alla fine questo boss è morto e una delle verità appunto è che la vita nella mafia finisce con la morte e l'ultimo capitolo del libro si chiama appunto morte e racconta i modi in cui le mafie uccidono e quindi i tipi di bomba di armi che usano per ammazzarsi e poi il capitolo finisce con anche non tanto i mafiosi che muorono ma la morte della mafia cioè cosa possiamo fare per uccidere la mafia e poi c'è un post scriptum del libro che si chiama post mortem in cui io torno e sono tornato di recente proprio per questo libro nella cittadina dove ho fatto lavoro sul campo vent'anni fa da cui tra l'altro proviene mia moglie e sono tornato sulla tomba di questo boss mafioso di questo Zikov che era morto e ho visto la sua stere e in un qualche modo vederlo lì ma quasi fatto simpatia e compassione un minimo di simpatia e di compassione perché in un certo senso gli anni 90 in Russia erano gli anni dell'esplosione anche della libertà per certi versi e anche delle mafie quello che adesso invece avviene in Russia è che i mafiosi che avevo conosciuto io sono tutti morti morti in quel modo e sono diventati parte della struttura statale in un qualche modo la mafia russa è stata assorbita dal sistema di potere che non ha più distinzione o soluzione di continuità tra quello che è lo Stato e quello che è la mafia e quindi c'è un altro tipo di violenza che a questo punto non è quella tipica mafiosa ma è la violenza invece di uno Stato autoritario che negra la libertà a chi ci vive beh qualche studioso parlando dell'eclissi della mafia durante il fascismo ha proprio spiegato in questi termini cioè non c'era più bisogno di un regolatore del territorio come poteva essere il boss mafioso perché quella funzione era stata assorbita dal regime e il regime non poteva tollerare concorrenza che è anche il motivo per il quale diciamo l'alta mafia fu strategicamente in qualche misura preservata e per il resto si fece con Mori terra bruciata ma Mori che era un repressore concludeva il suo libro con la mafia e i fericorti proprio con un incitamento alla cultura e all'istruzione come uniche armi possibili per combattere la mafia noi saremmo utopisti ma con Federico Varese mi ci metto anch'io continuiamo a credere che sia quella la strada e tra le varie forme di conoscenza questa degli affascinanti racconti di vita di mafia di Federico Varese è una delle migliori che si possono trovare negli ultimi anni grazie e buona lettura grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti